domani addio alle UTI e ai nuovi enti andrà anche l'edilizia scolastica ma solo delle superiori elementari e medie penseranno sempre ai comuni intanto Udine si divide sulle aule nei prefabbricati la procura di Udine ha iscritto 8 persone in registro degli indagati per gli episodi del centro stupri l'accusa e distingazione delinquere è incitamento all'odio razziale il TAR del Lazio ha annullato il dispositivo dell'ANAC che cancellava la nomina presidente dell'autorità portuale di Zeno D'Agostino soddisfazione del direttore generale Sommariva e del ministro Patuanelli entrerà in vigore della mezzanotte di oggi la nuova ordinanza regionale in tema covid via libera sport di contatto e di squadra e giornali e le carte al bar a teatro e cinema un posto ogni due il centrocampista di proprietà dell'Udinese Barac resta in Salento un colloquio tra Parompozzo e il presidente del Lecce ha chiuso la questione ieri in sospeso prolungato il prestito fino al 31 agosto Buonasera da Telefriuli ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale addio alle UTI e da domani l'edilizia scolastica sarà totalmente appannaggio dei nuovi enti di decentramento regionale i comuni si occuperanno invece dell'edilizia di scuole primarie e secondarie di primo grado per il momento i nuovi enti saranno guidati da commissari oggi è l'ultimo giorno di vita delle UTI poiché domani nasce il nuovo ente di decentramento regionale quale ente funzionale e strumentale dell'amministrazione regionale con competenze in particolare di edilizia scolastica da domani le quattro UTI dove insisto nei capoluoghi di provincia cessano di esistere e partono gli enti di decentramento regionali che hanno una dimensione territoriale pari a quella delle vecchie province vanno a prendere una fondamentale funzione delle ex province cioè quella dell'edilizia scolastica e la vanno a prendere per una precisa scelta della giunta regionale l'edilizia scolastica è un tema serio da affrontare perché abbiamo un patrimonio di edilizia scolastica importante e vetusto purtroppo molto vetusto che con le nuove norme in particolar modo riguardanti i criteri sulla sismicità degli edifici sono tante da riadattare ma in realtà la responsabilità dell'edilizia scolastica e quindi le decisioni su come far ripartire la scuola il 16 settembre saranno divise gli enti di decentramento si occupano di quella che era l'edilizia scolastica superiore ovvero quella che era già la funzione delle vecchie province non si occupano di tutta la parte relativa alle scuole dell'infanzia alle scuole primarie, alle scuole elementari, alle scuole medie tanto per capirci l'edilizia scolastica in questo momento per quanto riguarda l'edilizia scolastica superiore è una funzione attribuita all'ente di decentramento regionale ma l'ente di decentramento regionale come ha ribadito più volte è soltanto una bozza la fase di partenza e restando in tema scuola fa discutere gli udinesi la proposta che è stata avanzata dal sindaco Fontanini di utilizzare dei prefabricati per ampliare di fatto lo spazio e disposizione degli studenti per il ritorno sui banchi a settembre l'ipotesi di creare dei prefabricati per poter mettere i ragazzi a scuola distanziati lei è favorevole, è contraria? tutti gli uffici pubblici che ci sono abbandonati bisogna fare dei prefabricati? personalmente ho visto che con mia sorella deve fare le superiori lei si trova male perché deve fare ancora scuola online ora come ora per lei sarà una botta non da poco quindi se è una soluzione in cui lei può tornare a fare la scuola io sarei d'accordo ma perché vedo che lei sta male non riesce a svolgere le lezioni online vedo i ragazzi nei parchi abbracciarsi, baciarsi nei parchi giochi anche i ragazzini piccoli, medi, elementari credo che questa opzione dei prefabricati sia un po' inutile visto che ci saranno i centri estivi i ragazzi avranno modo di stare vicini ugualmente sarebbe meglio vestire su gli edifici c'è che tirar su delle strutture temporanee che poi non vengono magari riutilizzate secondo me bisogna valutare un attimino quali sono le priorità se la salute è la priorità allora muoversi a costruire il prima possibile quello che è più adatto poi insomma si cerca di fare nel meno tempo le migliori cose andiamo a Sacile perché una catena umana ha preso il via dall'istituto comprensivo di Viale Zancanaro verso il municipio a conclusione di un sit-in permanente di docenti, personale ATA e genitori per protestare appunto contro le problematiche in questo momento del mondo della scuola e la riduzione di organico allora diamo la linea a Daniele Micheluz Buonasera da Sacile ci troviamo in Viale Zancanaro per documentare quella che è la protesta che va avanti qui all'istituto comprensivo di Sacile dal 16 giugno personale ATA, docenti, famiglie oggi una catena umana verso il municipio per chiedere che si torni a scuola e lo si faccia in sicurezza a settembre siamo con Federica Freddi che è la segretaria dell'istituto comprensivo insomma una protesta partita proprio da lei Sì, è partita da noi in quanto quando è uscito l'organico del personale ATA ci siamo accorti che ci hanno diminuito tre collaboratori scolastici e un assistente amministrativo questo significa che ancora una volta il governo non dà priorità alla scuola perché in un momento di emergenza come questo di emergenza sanitaria noi ci aspettavamo di aumentare l'organico non di diminuire e quindi abbiamo deciso di cominciare questa protesta Una protesta che ha visto l'adesione di tante persone che sono qui oggi insomma a testimoniare la vicinanza a voi Sì, tante persone anche perché fare un sit-in di 15 giorni dalle 2 del pomeriggio fino alle 7 di sera non è facile ci siamo turnate eravamo in tanti c'era personale ATA, docenti e anche genitori e oggi appunto c'è la fase finale facciamo questa accordata e saranno presenti proprio tutte le categorie quindi i docenti, il personale ATA, i genitori e anche i bambini Un messaggio da mandare alla politica? Che finalmente diano priorità alla scuola nel senso che ci deve essere un organico adeguato ci devono essere anche delle infrastrutture quindi bisogna finanziare le scuole e bisogna anche pensare ad una riforma scolastica seria Qui ci sono anche i genitori, una mamma Chiara Gobat ha rappresentanza anche di tutti gli altri volete che i vostri bambini tornino a scuola a settembre in presenza? Sì, i bambini hanno bisogno di presenza hanno bisogno delle loro maestre hanno bisogno della relazione soprattutto quindi noi chiediamo di poter continuare il loro percorso formativo e di continuare anche nella relazione quindi soprattutto di dare spazio sia alla didattica non più una scuola che punti solo alla sicurezza ma soprattutto la didattica, l'educazione dei bambini insieme alle famiglie e allora questa era la protesta che dura appunto da 15 giorni finisce oggi abbiamo sentito docenti, anche il personale ATA da Sacile è tutto, vi ridiamo la linea Grazie a Daniele Micheluz la pagina della cronaca con la svolta nelle indagini sul caso dei ragazzi che hanno indossato le magliette con la scritta Centro Stupri ci sono otto persone iscritte nel registro degli indagati le accuse sono di istigazione, delinquere e incitamento all'odio razziale otto persone per lo più giovani sono state iscritte nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Udine sono accusate a vario titolo di istigazione a delinquere e incitamento all'odio razziale in relazione alla vicenda della t-shirt con la scritta Centro Stupri indossata da alcuni giovani friulani residenti nella zona di San Daniele del Friuli la prima ipotesi di reate è relativa al messaggio contenuto nelle magliette indossate durante alcune feste tra San Daniele e Lignano mentre la seconda fa riferimento ai messaggi postati sui social quando la vicenda è diventata di dominio pubblico e alcune giovani hanno condannato la condotta dei ragazzi l'indagine è ancora in corso e sono al vaglio le posizioni di altre persone è possibile quindi che vengano iscritte nel registro degli indagati già nelle prossime ore altre persone quando terminerà la prima fase di accertamento potrebbe trattarsi di un secondo gruppo di ragazzi ma su questo aspetto dell'inchiesta gli inquirenti mantengono il massimo riservo nei giorni scorsi il questore di Udine aveva già disposto la chiusura per 15 giorni dei due locali dove i giovani avevano indossato la maglietta a San Daniele del Friuli e dove avevano cenato a Lignano Sabbiadoro accreditandosi come appartenenti al sedicente Centro Stupri entrerà in vigore domani l'ordinanza numero 20 firmata dal governatore Fedriga valida per la nostra regione con le norme materie di contenimento del coronavirus quindi ulteriori misure ma anche ulteriori allentamenti perché c'è una ripresa degli sport di contatto e di squadra e anche delle attività di formazione per laboratori dipendenti del settore pubblico e privato di qualsiasi natura torna anche la possibilità per gli esercizi commerciali di risorazione e di servizi di mettere a disposizione quotidiani e riviste per i clienti sono ammessi anche i giochi di carte a patto che queste vengano igienizzate ad ogni cambio di giocatori è consentito inoltre lo svolgimento delle processioni religiose delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali che comportano lo spostamento fisico purché sia assicurato il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro l'ordinanza 20 dispone in aggiunta le misure di distanziamento nei cinema e nei teatri che saranno tenute ad alternare i posti a sedere con poltroncine lasciate vuote e i dati del bollettino di oggi sul numero dei contagi in Friuli Venezia Giulia dice che tre persone sono tornate positive al coronavirus è il dato più eclatante dell'aggiornamento odierno in regione comunque si segna nuovamente uno zero per quanto riguarda le vittime e anche per quanto riguarda i nuovi contagi zero anche i pazienti nelle terapie intensive la soglia delle positività accertate è a quota 105 unità un proiettile indirizzato al sindaco di Palazzolo dello Stella Franco Daltile è stato trovato nella mattinata di ieri dai dipendenti dell'ufficio protocollo nel municipio del paese era contenuto in una busta bianca senza altre scritte se non quella che lo intestava al primo cittadino ed esattamente quattro anni fa si era verificato un episodio identico l'autore del gesto potrebbe quindi essere la stessa persona come ieri anche quella volta il primo cittadino va a sporto denuncia ai carabinieri che hanno acquisito il proiettile il sindaco dice da una parte di sentirsi tranquillo di non avere questioni in sospeso dall'altra però ammette una certa preoccupazione anche per la propria famiglia una vasta colonna di fumo visibile a distanza ha fatto scattare l'allarme questa mattina in via Madonnina Tabagnacco e l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Udine oltre ad alcuni sanitari ad chiamare i soccorsi sono stati dipendenti di una vicina azienda la Tecnes che hanno visto l'incendio e che hanno quindi chiamato i soccorsi le fiamme si sarebbero sviluppate in un'autorimessa di una villetta a schiera coinvolgendo 4 o 5 locali attigui le cause del rogo spento in circa un'ora sono in fase di accertamento sul posto anche gli uomini della polizia locale e i carabinieri non ci sono state fortunatamente persone coinvolte nel rogo un sequestro di 150 kg di frutti di mare è stato effettuato dalla Guardia Costiera al mercato itico di Trieste dove sono state trovate capessante con taglia in fedio dalla minima consentita proveniente dalla Croazia non potevano essere commercializzate multa di 8 mila euro e al confine di Basovizza poi è stato intercettato un privato che trasportava in auto 6 kg di materiale itico senza tracciabilità destinata alle pescherie ristoranti anche in questo caso oltre al sequestro una multa di 3 mila euro parliamo della vicenda di Zeno D'Agostino perché il Tar del Lazio ha annullato il dispositivo dell'ANAC con il quale veniva cancellata la sua nomina presidente dell'autorità portuale dunque D'Agostino torna in carica Zeno D'Agostino può tornare già da domani ad essere il presidente dell'autorità portuale di sistema alto adriatico orientale lo ha sentenziato il Tar del Lazio accogliendo il ricorso presentato dallo stesso D'Agostino e da Mario Sommariva nominato commissario subito dopo il dispositivo dell'autorità nazionale anticorruzione attraverso il quale era stato stabilito a inizio giunno che la nomina dello stesso D'Agostino alla guida delle authority non fosse possibile secondo ANAC il ruolo di presidente in Trieste Terminal Passeggeri seppur senza deleghe creava un conflitto di interessi per il quale non sarebbe stato possibile nominarlo dall'allora ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio alla neonata autorità portuale che racchiudeva sia Trieste che Monfalcone oggi il Tar ha ribaltato la delibera di ANAC ripristinando la nomina che verosimilmente sarà riconfermata già a novembre quando D'Agostino andrà a scadenza di mandato non è mancata la soddisfazione nel mondo della politica del presidente della regione Massimiliano Fedriga al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza alla oggi deputata Deborah Serracchiani a quella della politica si aggiunge quella dei lavoratori portuali scesi addirittura in piazza chiedendo a gran voce il ritorno di D'Agostino Le reazioni con la soddisfazione del ministro Patuanelli e di Mario Somariva braccio destro di D'Agostino ai tempi di Trieste nominato commissario in questo periodo di transizione Direi che è già esecutiva la sentenza del Tar che rimette Zeno D'Agostino al posto che gli compete e quindi il mio breve compito per fortuna molto breve è finito e non sa quanto sono felice di questa fine di questo compito In questo senso ha sentito D'Agostino? Sì certo ho sentito D'Agostino subito è molto felice soprattutto perché i contenuti della sentenza danno ragione a lui e all'autorità portuale per i motivi del ricorso su tutti i fronti quindi si tratta come dire di una vittoria piena E c'è anche la nomina che dovrebbe arrivare a novembre la riconfermo a questo punto appare quasi scontata di D'Agostino alla guida del porto di Trieste Ma questo diciamo non spetta a me dirlo perché diciamo gli organi che sono deputati a nominare il Presidente sono il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture di concerto con il Presidente della Regione credo che però il riconoscimento a Zeno D'Agostino per il lavoro svolto in questi anni sia stato unanime e mi lasci dire che la vittoria così forte così chiara così piena al TAR non fa che confermare tutto quello che è stato fatto e quindi anche il suo prestigio e la sua personale diciamo il riconoscimento personale per quello che è stato il lavoro svolto chieste altre quattro settimane di cassa integrazione covid per i dipendenti della DM Electron di Buia saranno le ultime dall'incontro di questo pomeriggio tra sindacati e proprietà non sono arrivate buone notizie tanto che è stato attivato un presidio stabile all'esterno dell'azienda attivato a Buia di fronte allo stabilimento della DM Electron un presidio fisso di lavoratori che chiedono chiarezza sul futuro dell'azienda bloccata dal lockdown e non più riaperta l'incontro tenutosi dopo diverse settimane tra organizzazioni sindacali di CGL e CISL con la proprietà non ha rassicurato le maestranze i vertici non riescono a intravedere al momento soluzioni per fare ridecollare l'impianto produttivo sono state chieste ulteriori quattro settimane di cassa integrazione covid che termineranno il 26 luglio da quella data i lavoratori non potranno usufruire di altri ammortizzatori sociali a meno che non vi siano delle proroghe da parte dello Stato il presidio sarà attivo dalle 8 alle 17 tutti i giorni fumata nera al momento anche per un incontro con la regione speriamo che ci sia un piano di rilancio industriale che ci possa essere ancora un futuro per questa azienda chiaramente ancora risvolti e chiarezza su questa situazione non ce l'abbiamo si sta attendendo queste risposte siamo come amministrazione immunale siamo molto preoccupati e speriamo che speriamo un po' nella provvidenza la sospensione dell'iter per l'ampliamento dell'inceneritore di Manzano è arrivata questa mattina in quarta commissione in consiglio regionale dove sono stati ascoltati l'assessore regionale all'ambiente Scocci Marro gli esponenti di Lega Ambiente e sette amministrazioni comunali unite davanti alla richiesta di ampliamento è necessario un dialogo con la proprietà per venire incontro alle esigenze dei cittadini vorremmo trovare un punto di incontro tra la Grimmen società che sta gestendo l'inceneritore di Manzano e quelle espresse dalla popolazione il governatore Fedriga non è convinto del MES le risorse che potrebbero arrivare dall'Unione Europea all'Italia con 700 milioni in Friuli Venezia Giulia da investire sulla sanità devo dire che ci sono molti paesi europei che si stanno approvvigionando di nuova finanza attraverso un'emissione di titoli di Stato non è che il MES sia l'unico modo per avere risorse per la sanità anzi e devo dire altrettanto che ci sono già progressi dove vengono cambiate le regole in corsa perché ricordo che per cambiarle non serve l'unanimità ma basta la maggioranza e quindi non vorrei rischiare perché chi guarda in modo così semplicistico dicendo si beh intanto prendiamo i soldi ma non ci sono regole né niente perché tutti i paesi europei non l'hanno attivato perché altri paesi non hanno preso quelle risorse il dubbio adesso veramente quelli che si passano come i grandi competenti del paese e che senza un minimo di riflessione dicano prendiamo quei soldi a prescindere perché tanto ce li regalano e non costano niente non vogliono nessuna condizione io avrei un po' di cautela avrei un po' di cautela perché il mes che io conosco e che ho visto è quello greco dove sono state tagliate la sanità dove è stata tagliata quando i soldi non bastavano è stata tagliata la sanità sono state tagliate le pensioni sono stati tagliati i diritti dei cittadini allora invece di dire si li prendiamo perché non ci sono regole io avrei cautela su questo avrei molta cautela su questo e chi semplifica dicendo si ma non c'è nessuna condizione avrei molti dubbi ad affermare con certezza questo tipo di cose in Friuli Venezia e Giulia potrebbero arrivare oltre 700 milioni il 2% dei 37 miliardi destinati all'Italia l'obbligo è investire esclusivamente sulla sanità gli interessi sono dello 0% se restituiti in 7 anni altrimenti dello 0,8 su questo PD e Forza Italia si sono detti favorevoli resta però la contrarietà del Movimento 5 Stelle schierato al fianco della Lega nei dubbi sullo strumento finanziario e anche il governo De Federica ha partecipato questa mattina la presentazione del programma di ESOF 2020 che avrà un tema importante proprio nelle Covid-19 il SARS-CoV-2 sarà inevitabilmente il protagonista di ESOF 2020 il festival europeo della scienza in programma Trieste dal 2 al 6 settembre che oltre all'innavitabile slittamento delle date era previsto infatti a luglio ha dovuto rivedere il programma adottandolo all'attualità e aggiungendo incontri virtuali a quelli nel nuovo polo che sta sorgendo in Portovecchio e che il sindaco Roberto Di Piazza ha voluto mostrare con orgoglio al presidente della regione Massimiliano Fedriga è cambiato il mondo sotto i nostri piedi perché dobbiamo discutere di come la scienza e anche non solo la scienza affronteranno il futuro di quali sono state forse anche le carenze che ci hanno portato a soffrire anche di più di quello che avremmo dovuto di tutte queste problematiche e tutti dobbiamo metterci attorno a un tavolo discutere e la scienza deve sempre di più essere protagonista nel parlare con gli altri componenti della società quindi non deve deve sempre meno isolarsi nelle sue torri d'avorio parlare solamente in termini di equazioni e di grafici ma deve anche parlare con quelle che sono le problematiche vere della nostra società sono in calendario gli interventi di l'area Capua virologa di fama internazionale Elena Cattaneo esperta di cellule staminali e Thomas Harting tossicologo di fama mondiale dell'università John Hopkins di Baltimore che racconterà l'impatto dell'infezione da SARS-CoV-2 sul nostro cervello Michael Maslow presidente di Euroscience ha posto l'accento sull'importanza di tenere esofi in questo momento per discutere tempestivamente del ruolo della ricerca scientifica dell'expertise e della comunicazione in questo contesto che non ha precedenti proprio su questo aspetto il governatore non ha mancato una piccola stoccata alla comunità scientifica soprattutto la scienza internazionale è stata la grande assente di questa pandemia ci siamo dovuti arrangiare devo dire rimboccandosi le maniche invece tutta la medicina del territorio i nostri ospedali i nostri professionisti all'interno di queste strutture personalmente almeno parlo come esperienza personale ci hanno dato indicazioni molto più puntuate e utili e molto più concrete nella scheletta degli incontri inoltre diverse le sessioni in collaborazione con partner come Fincantieri dedicata all'economia blu alla salvaguardia della risorsa mare e al trasporto marittimo sostenibile anche grazie a tecnologia legata all'uso dell'idrogeno sigillo d'argento della città di Udine all'ospedale Santa Maria della Misericordia per le prestazioni eccezionali che sono state fornite sia nei confronti dei friulani che nei pazienti arrivati da fuori regione cerimonia cerimonia nel salone del Parlamento del municipio di Udine per la consegna del sigillo d'argento della città a Santa Maria della Misericordia per i servizi eccezionali concessi non solo ai friulani sono parole del sindaco Pietro Fontanini ma anche per aver curato i tanti pazienti arrivati da altre regioni dove il problema è stato molto più pesante che non qua l'ospedale ha sottolineato ancora Fontanini è nato grazie al comune di Udine e noi siamo grati all'ospedale tre grandi momenti hanno contraddistinto questi cento giorni di pandemia di lotta la pandemia dal punto di vista sanitario poi la lotta è stata anche ovviamente su altri fronti l'integrazione fra tutte le componenti dell'ospedale e fare le varie specialità ma soprattutto fra ospedale e università l'inter e multidisciplinarietà quindi tutte le discipline tutti i professionisti di varie discipline si invocavano le maniche e lavoravano gomito a gomito e lo spirito di sacrificio e di servizio umile e silenzioso che ha contraddistinto i nostri operatori in qualche caso abbiamo avuto anche momenti di difficoltà non lo nascondo avevamo un nemico sconosciuto da combattere però grazie alla flessibilità delle strutture grazie alla fantasia dei nostri operatori credo che abbiamo ottenuto degli ottimi risultati anche sopra quelle che possono essere la media nazionale per cui diciamo con orgoglio non solo ho ritirato diciamo questo riconoscimento da parte della cittadina ma però posso anche confermare che quantomeno i risultati della nostra azienda rientrano i migliori di tutto quanto hanno l'Italia senza far pesare a tutte le persone che stanno si stanno impegnando per ritornare gradualmente alla normalità il mio dovere è garantire che il sistema c'è che sta lavorando e si sta organizzando per poter affrontare qualsiasi tipo di situazione si possa verificare lo sport il centrocampista di proprietà dell'Udinese Antonin Barak resta in prestito a Lecce la svolta è arrivata questa mattina da un colloquio tra il parompozzo e il presidente della società salentina si è risolto questa mattina il giallo che si era creato ieri sul prestito di Barak a Lecce il centrocampista ceco aveva bisogno della firma dell'Udinese per poter concludere la sua stagione in Salento firma che ieri sembrava tardare ad arrivare un fatto che aveva allarmato la società giallorossa c'è stato un accordo all'interno della Lega di A che tutte le società appartenenti alla Lega di A avrebbero ovviamente dato l'assenso per prorogare per questi due mesi anche i relativi prestiti c'è un gentile magrima tra tutte le società l'Udinese aveva specificato attraverso il suo ufficio stampa come in realtà il prolungamento fu soggetto di una trattativa tra le due società come da regolamento c'era inoltre un'altra questione nei mesi in cui non si è giocato di lockdown i monumenti del calciatore chiaramente sono stati pagati dal Lecce nella prospettiva poi di poterlo utilizzare nel finale di campionato tutte le mensilità in cui non si è giocato il Lecce chiaramente ha sgravato tutti i mesi di questo incombente nella prospettiva di utilizzarlo in quei pochi mesi in cui si giocherà e che si sta giocando questa mattina alla svolta poco prima di pranzo la questione è stata affrontata direttamente dal paron Pozzo e dal presidente del Lecce Stichi Damiani l'accordo è stato possibile grazie alle eccellenti relazioni tra i due club e alla stima reciproca tra la famiglia Pozzo e il presidente Savario Stichi Damiani scrive la società bugliese sul suo sito ufficiale tale vicenda è stata inoltre l'occasione per rafforzare i già proficui rapporti tra le due società anche in prospettiva futura l'US Lecce ringrazia la società udinese e la famiglia Pozzo per la correttezza e la lealtà sportiva dimostrata tutto è bene quel che finisce bene o prima di dirlo appuntamento alla penultima di campionato e comunque al mercato quando l'udinese deciderà con la procura del giocatore il suo prossimo futuro c'è interesse in Germania e la valutazione dei Pozzo gira sui 10 milioni una cifra che in Puglia non sarebbero intenzionati a pagare e noi per questa sera ci fermiamo qui grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata a tutti voi grazie a tutti